Consiglio, ed è che la sinistra vorrebbe praticare la politica delle porte aperte a chiunque, delle frontiere spalancate, non tanto per un fatto caritatevole che non gli appartiene, ma per il fatto che pensando che introducendo in Italia 2, 3, 4 milioni di estracomunitari o comunque di cittadini stranieri, potrebbe con questo mezzo, con questa strategia subdola, cambiare gli equilibri elettorali in Italia che dal 1946 ad oggi hanno sempre un'altra parte. E' previsto come maggioranza la maggioranza moderata. Quanto al nostro comportamento, vorrei dirlo anche a chi pensa che dovremmo accogliere tutti, il nostro comportamento è assolutamente in linea con le regole europee. Dopo l'ONU anche l'Europa dice no ai rispingimenti dei clandestini il mare, il commissario Barrò invita tutti i paesi alla solidarietà.